buongiorno a tutti amici ed eccoci qui come sempre per il nostro magico oroscopo del giorno della vostra cartomante sensitiva barbara mandiamo a vedere per i segni di terra toro vergine capricorno le carte dicono che in arrivo per voi una riappacificazione qualcuno intorno a voi non si è comportato a dovere ma è come se tutti i nodi venissero al pettine riuscirete ad uscire anche brillantemente da una situazione che sembrava complicata un angelo è al vostro fianco in questo momento per chiarire qualcosa che non avete capito allora vediamo che cosa ci dicono i vostri angeli una nonnina dal cielo vuole farti sapere che presto tutto sarà chiaro ora vediamo invece per i segni di acqua scorpione cancro e pesci c'è un cambiamento all'orizzonte c'è una chiusura definitiva legata ad una situazione che riguarda l'amicizia la famiglia chiuderete dei rapporti le carte dicono che il lavoro andrà bene per carità ma questa cosa potrebbe rattristarvi un pochino in questa giornata ora vediamo invece che cosa ci dice e cosa ci dicono i vostri angeli custodi abbiate fiducia ricordatevi sempre che chi vale resta ma il tempo spiega ogni cosa ora vediamo invece per i segni di aria bilancia acquario e gemelli allora per questi segni giustizia verrà fatta le carte dicono giustizia verrà fatta ogni puntino verrà messo su lei e voi riuscirete finalmente a ritrovare la vostra pace la vostra serenità anche a livello familiare ed amoroso c'è una novità che riguarda i soldi o il lavoro prossima vediamo che cosa ci dicono i vostri angeli un angelo giovane dal cielo ti è accanto e vuole farti sapere che presto riceverai una comunicazione interessante e importante vediamo i segni di fuoco leone societario d'ariete una gran consolazione dopo un periodo davvero davvero faticoso per voi vi farà tirare un gran sospiro di sollievo avete avuto un grosso dispiacere un grosso periodo faticoso ma è come se finalmente ci fosse una rinascita totale per voi andiamo a vedere che cosa ci dicono i vostri angeli allora ben presto arriveranno pietre preziose dal cielo allora anche questo è l'oroscopo del giorno della vostra cartomante sensitiva barbara mi raccomando state attenti ai profili falsi state attenti ai profili falsi a mio nome la vera cartomante sensitiva barbara si chiama barbara beltrando se vi fanno fare dei pagamenti e vi raccontano che è per mio zio mia nonna mio compagno non è vero niente se non sono intestati a barbara beltrando bloccate segnalate allora come voi sapete io vado ad estrarre tra tutti una persona tra tutti i miei fans ed ho estratto maria morrandino allora vediamo maria morrandino che cosa mi dicono le carte allora i tuoi figli sono la tua vita dicono le carte è un po come se le carte dicessero che tu sei una persona che tiene tantissimo alla famiglia ma c'è stata una delusione c'è stato un allontanamento qualcuno non ha saputo riconoscere il tuo affetto il tuo cuore ma non ti preoccupare presto ci sarà per te un chiarimento e una riconciliazione continua ad essere quella che sei perché dal cielo sono fieri di te e anche questo è l'oroscopo del giorno della vostra cartomante sensitiva barbara un bacione enorme un pensiero di fortuna possa arrivare ad ognuno di voi ciao